Continua a volare la Nissa che a sei giornate dal termine domina il girone A di eccellenza. Nella ventiquattresima recita della stagione è l'Atletic Club Palermo ad arrendersi alla supremazia della capolista nel salotto di casa dove Barrera, Pagano ed Esposito, hanno vidimato il 3-1 finale nei confronti del sudalizio di Palermo. La rete di Mustacciolo ha avuto il sapore del momentaneo pari, soltanto un'illusione. Una vittoria che consente alla squadra di Terranova di mantenere inalterato il divario dalla Profavara, vittoriosa contro la supergiovane Castelbuono. La prima frazione di gioco dello stadio Marco Tomaselli si è conclusa con il parziale di 1-1. Nella ripresa la Nissa, spinta dall'entusiasmo del pubblico, ha ottenuto l'ennesimo sorriso del torneo. La capolista guida la classifica a 65 punti, con 7 lunghezze di vantaggio rispetto alla Profavara, che di punti ne ha 58. Nel prossimo turno la Nissa farà visita al Castellammare, terza forza del campionato, in condominio con il Mazzara, 46. Nel frattempo, il presidente Luca Giovannone, attraverso un video pubblicato dalla società, ha voluto trasmettere il proprio entusiasmo a margine della vittoria con l'Atletic Club Palermo. Quando al termine mancano sei giornate, la sfida di Castellammare potrebbe rappresentare l'ultimo vero ostacolo, capace di dare il via al conto alla rovescia conclusivo. Questi i risultati del ventiquattresimo turno di eccellenza girone A. Accademia Trappani Oratorio Marineo 1-2, Casteldaccia Aspra 0-0, Don Carlo Castellammare 0-1, Geraci Folgore 1-2, Mazzara 46 Fulgatore 1-2, Nissa Athletic Club Palermo 3-1, Profavara Super Giovane 2-0, Unitas Sciacca Mazzara 3-0. In classifica Guida Lanissa 65 punti, Profavara 58, Mazzara 46-42 punti, Castellammare 42 punti, Super Giovane 37, Unitas Sciacca 34, Oratorio Marineo Folgore 31 punti, Don Carlo Misilmeri 29, Athletic Club Palermo 28, Geraci 26, Accademia Trappani 23, Casteldaccia 22, Fulgatore 21, Aspra 18, Chiude a 16 punti, il Mazzara. Nel girone B di eccellenza, il Città di Gela resiste nel campo del Modica portando a casa il 2-2 finale, che consente ai bianco-azzurri di esorcizzare il periodo negativo caratterizzato da sole sconfitte. Allo stadio Vincenzo Barone è il Modica a passare in vantaggio, ma il Gela trova la rete con bellome signate, chiudendo il primo tempo in vantaggio. In apertura di ripresa arriva il pareggio definitivo dei padroni di casa, che certifica il risultato finale. Questi i risultati del ventiquattresimo turno del girone B di eccellenza. Messana-Santa Croce 1-0, Atletico-Catania-Nebros 2-1, Enna-Mister-Bianco 6-0, Leonfortese-Ionica 0-3, Mazzarrone-Leonzio 0-0, Milazzo-Real-Siracusa 3-0, Modica-Città di Gela 2-2, Rocca-Acquedolcese-Paternò 0-2. La classifica vede Elena prima in classifica a 62, Paternò 55, Modica 44, Milazzo 42 punti, Ionica 38, Città di Gela 34, Real-Siracusa 33 punti, Atletico-Catania 31, Nebros 30, Rocca-Acquedolcese 29, Mazzarrone-Mister-Bianco 28 punti, Leonzio 25, Messana 20, Leonfortese 17, chiude Fanalino di Coda 13 punti, il Santa Croce.